non è lì gol 2 a 2 viola la palla è rimasta lì e viola fa il 2 a 2 appena entrato viola che ha realizzato il gol vittoria palla ad entrata per Turam ecco lì lo sapevo lo sapevo e andiamo l'Inter è in vantaggio il ticus e Turam torna il gol allora Gavino Ranieri ha studiato bene la partita se non subiamo la rete del primo tempo vediamo sicuramente più iniziativa del Cali vediamo un attimino siamo all'undicesimo attenzione qui Sanchez sulla linea ecco qua gol di Turam no non ci credo davvero Torre no non lo so no no ti giuro non l'ho detto cazzo torre ci ha spoilerato il gol torre ci ha spoilerato torre ci ha spoilerato torre starre minuto su Dio minuto su Dio minuto su Dio buona dai nooo nooo Lilia dai E' il gol dell'Inter, finalmente si è sbloccato, il Tikus Turam con un assist importantissimo, un assist importantissimo del Nino Meraviglia ed è gol! Gli lo dedica il Toro, Turam, che fa l'esultanza del Torito! Occhio! No! Il Cagliari improvviso, non ci credo! Dai, che dormita! Dormita totale? Sull'ingresso in campo di Frattesi, un pallone lungo, stop, tiro e gol! A regge il Cagliari, ma lo sapevo, lo sapevo! Non me lo immaginavo, ragazzi! Eccala, via! Ha preso gol? Sì, sì! Bello? Chi è che ha segnato? Bravi, bravi! Togliamo Mkhitaryan! Togliamo Mkhitaryan! Togliamo Mkhitaryan, intanto è soltanto il centrocampista più importante che è l'Inter! Facciamo prendere tanti applausi Mkhitaryan, dai! Che cazzo di gol, ragazzi! Tutti a dormire, ragazzi! È come quando le ragazze... Gol del Cagliari! No! La prossima partita! La prossima partita! Oh, gol del Cagliari! Dio buono! Eeeh! Ha 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 segnato? Ma cazzo fai che non segna mai Shomomurov di come cazzo si chiama? Mamma mia! 1 a 1! Il Cagliariò! La pareggiata è Cagliari! La pareggiata! Shomomurov! Dai nulla! Dai nulla! Dai nulla! Ah sto cazzo di mina di miei coglioni come cazzo isulta, sto gigante di merda! Affanculo qua! Oh! Lubumbo stop a Shomurov! Voltino gol! No! Avevi ragione! Pareggio del Cagliari! A 64esimo colpisce Shomurov su un'ottima, finalmente palla... Eppure è secca! Eeeh! Eeeh! Shomurodo! Seeeee! Shomurodo! 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 Cazzo Dado! L'ho detto! Mamma mia! L'ho detto! Shomurodo! 1 a 1! Meritatissimo! Eh? Cosa? Dai! Dai no! Ti metto di mare... 1 a 1! Meritato di cosa? Meritato di cosa? Madonna! Fai il bravo! Fai il bravo! Fai il bravo! Sinceramente... Attenzione! Shomurodo! Goal! Goal di Shomurodo! Si è sbagliato! Attenzione! Si è sbagliato! Incredibile! Attenzione! E lancia dalle retrovie! Stop di nuovo! Bordata! Stavolta l'ha presa bene! ACPicca Shomurodo! Oh! Mano! 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 Oh! Ninja! Mano netto! Oh! Mano netto! Fintila! Nettissimo sta mano! Acanciala 9 dagli 11 metri! Mischia l'arbitro! Un solito movimento di Marco! Batte! Acanciala 9! muacchio vanas Mangano 2! billing gialler in giro! Un solito movimento di Marco! Un solito movimento di Marco! Kolbe葉! Un solito movimento di Maria! Un solito movimento di Maria! Un solito movimento per un変ormento di Marco! In giro! Un solito movimento di Gabriel speedsthiso per esempio! Hey Leight! Un solito movimento di Michael Valencia! dai cazzo dai cazzo dai cazzo dai cazzo dai cazzo il cross di Ossidiakos dentro Bissek sale la rimette in mezzo attenzione la padula no basta prendere sti gol basta ma che gol è prati per la padula viola pareggio 2 a 2 bossa azzeccata di mister Ranieri adesso ho capito perché mia moglie mi ha scritto forza a Cagliari guarda Giulini guarda era anche dispiaciuto bravi ragazzi sei ridicolo Giulini sei ridicolo viola viola go 2 a 2 dai dai viola ragazzi dai bravissimi dai così ragazzi dai ma sembra un po' ed air questo che minchia Ema è tutto il giorno che dice 2 a 2 come gol no gol del Cagliari niente incredibile come si fa a prendere un gol così allucinante allucinante 2 a 2 non muore mai viola porca troia non muore mai non muore mai e di qua c'è un risultato cristo gol porca di quella puttana bastarda dai su madonna mia mi ha tu viola finisce qua finisce 1 a 1 2 a 2 1 a 1 per tempo credo tra l'altro non lo so la partita tra Inter e Cagliari nulla di di assurdo da dire ragazzi c'è il derby settimana prossima possiamo vincere il derby fine c'è il derby